L'Inx e CMCC hanno supportato la regata Brindisi Corfu fornendo il servizio di previsione Sea Conditions e in particolare abbiamo fornito ai regatanti il nostro bollettino con i venti e l'altezza e direzione delle onde per i giorni del 10 e dell'11 giugno. Ne abbiamo approfittato per far conoscere il nostro servizio di previsione che è il risultato di un progetto di ricerca durato tre anni e mezzo finanziato dal MIUR. Speriamo che le nostre informazioni siano utili ai regatanti che si apprestano a partecipare alla gara.